Ed eccoci qua a leggere la carta, la carta dell'ultima puntata per le vacanze, poi ci rivedremo a settembre e chissà, magari ricominceremo da capo oppure qualche sorpresa. Bene, la carta di oggi che è uscita era baciata dal fuoco, ma siccome era già uscita abbiamo scelto quella successiva, bruciare il campo. Di nuovo a te, mia cara stella, sono quella fiamma di luce, di fuoco, luminosa, grande che scintilla e che oggi ti viene a servire perché tu possa tutto intorno a te ripulire. È arrivato il momento di ardere, quanto più in te può costruire e anzi potrebbe distruggere anche qualche nuovo seme che potrebbe fiorire. Ci sono momenti in cui è necessario bruciare il campo per poter ristorare la terra e farla rinvenire e ridarle la possibilità di divenire di nuovo portatrice di abbondanza e di tanto raccolto ancora. E allora, mia cara stella, cosa aspetti a bruciare e così a trasformare tutto ciò che intorno a te non lascia altro che ricordo di un vecchio male? Un male che forse ti è accaduto e che ha lasciato intorno a te arbusti, inseccoliti, foglie quasi marcite e che ora impediscono alla tua terra di essere fecondata dal nuovo e portano a marcire anche quella parte di te ancora viva e bella che potrebbe invece rifiorire. Ecco, a volte il fuoco serve proprio a ripulire. E allora sei pronto a lasciare andare? Sei pronto a liberare dalla tua vita ciò che è inutile ancora conservare? Non è facile, mia cara stella, lo so, liberarsi dagli attaccamenti. Ed ecco perché a volte il fuoco, a noi con il fuoco possiamo dare la possibilità a tutto quello che intorno ci invade di essere trasformato in un'altra realtà. Il fuoco pulisce, il fuoco purifica, nel frattempo che arde e illumina tutto ciò che sta consumando. E tu puoi scorgere fra tutta quella brace qualcosa che fino adesso in te aveva taciuto, che era il dono nascosto che non avevi compreso, ma che a te era stato consegnato. Attraverso esperienze che non avendo compreso e non riuscendo a diventare per te frutto evolutivo ti hanno fatto sentire invaso e quindi grazie al fuoco che arde tu puoi osservare che in fondo non era tutto da buttare. In mezzo a tante macerie c'è qualcosa che ancora tu puoi accogliere e onorare. Bene, quindi accogliamo questo fuoco che purifica il nostro campo per prepararci a creare nuove semine, per generare nuove realtà e raccogliere nuovi frutti. Grazie e buona estate a tutti!